Bancada Cunto considera deputata Olinda la hija etica. Ate Revere la hija etica. També nella cusufa militante siri atutur Ahmadic lo labele monobalasu politica. També nella cusufa isa militante sind geografi di Partito devoir non tomat a kata. Labelle monoba manobra politica sirandaria barato dios. Tamba agora i xa media social ne. Vira los katak dihan iha estrutura partida incontri efong. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti